Giorgia bella ma io glielo auguro ma le auguro per lei per lei me lo auguro io me lo auguro col tutto il corazon with all my heart il tedesco non me lo chiedete per carità di Dio io me lo auguro per lei cara me lo auguro me lo auguro e me lo auguro e quindi l'ha detto a bestia a voi in alto insieme per i 100 mil iscritti attivate la campanella per ogni aggiornamento del canale porcaccio giuda sta qua non fa cazzare comunque dicevo la Meloni ha rilasciato un video sui social ok ha detto testuali parole guardate che questa roba la facevano quelli di sinistra e sto vedendo su un po' tanti giornali anche troppi troppi giornali che noi vogliamo aumentare le tasse che questo governo vuole aumentare le tasse falso falso noi non siamo la sinistra noi vogliamo ridurle le tasse siamo qua per questo io ho detto da inizio che aumenta le tasse vedete che sulla benzina sull'accise su quello quella la finanziaria non è vero niente noi non vogliamo fare sto scherzetto quindi non state a credere alla Schlein non state a credere non faremo niente di tutto questo gli italiani possono stare tranquilli se se ok ok va bene allora facciamo una cosa dato che queste sono le classiche dichiarazioni di rito che fa un presidente del consiglio allora io a me non le voglio dare fiducia su sta cosa ma al minimo aumento al minimo di una bolletta della luce del gas eccetera al minimo farò un video a proposito e vi chiederò la condivisione totale anche chi è promeloni capito? chi può capire capisce ci vediamo al prossimo video minchia devo ancora parlare di di Marte sì l'area che tira l'area che tira vabbè vabbè